L'Aquila è stata lasciata sola a combattere contro l'illegalità e le insidie della criminalità organizzata, a sfogarsi contro il governo Renzi ma anche contro tutti i governi che l'hanno preceduto dal post-sisma e si sono ralati tanti sul fronte della sicurezza il sindaco Massimo Cialente. All'indomani dell'ultima bufera giudiziaria che vede indagati due dirigenti del Comune per corruzione, il segretario generale Carlo Pirozzolo e la coordinatrice del Centro Servizi Anziani Patrizia del Principe. Si tratta soltanto dell'ultima indagine, in questo caso non strettamente collegata alla ricostruzione, che getta ombre sul Comune ma Cialente non ci sta a lasciar passare il concetto dell'Aquila magna magna e spara a zero contro il governo che non ha voluto approvare lo strumento della cosiddetta white list delle imprese pulite impegnate nella ricostruzione. Ricordo che non so se l'indagine era già partita ma i primi a dire pubblicamente presso la Procura delle Forze dell'Ordio che sapevamo che girava una voce e che dei lavoratori dovevano restituire metà del salario fumo noi ufficialmente ad andarlo a denunciare. Questo è un qualcosa che ci permette anche di capire però un'altra cosa. Si dice che all'Aquila non lavorano gli aquilani e allora vogliamo cominciare a capire se il 51% delle imprese che lavorano all'Aquila sono aquilani e abbiamo tanto artigiani, elettricisti, idraulici eccetera eccetera vogliamo capire che cosa sta succedendo. È una battaglia che l'Aquila sta facendo perché quando si ricostruirà la storia si capirà che lasciati soli, lasciati soli e mi assumo la responsabilità di quello che dico da tutti in questi anni noi siamo riusciti a portare avanti con mille difficoltà, mille difficoltà una ricostruzione che sarà io credo la grande opera pubblica costata a meno del previsto e soprattutto fatta con legalità e trasparenza. Sindaco adesso però rimane fare un altro discorso importante che è quello delle white list insomma il Comune il suo dovere l'ha fatto. Che cosa si deve fare per cercare di ottenerlo? Guardi il Governo non ce l'ha voluto dare, in particolare il Ministero dell'Interno perché ha ritenuto che il lavoro di fare white list è seriamente cioè di sapere chi veniva sarebbe stato un sovraccarico troppo pesante per le prefetture.